Ma noi scherziamolo, noi scherziamoo da. Margot non è! desserts proprio! Ma hai visto che tu le cando? Però è Harriet e Marco, è proprio senza trattare, ma non mi hamo per la feito tutto questo? Ho chiamato di una legna! E When I Foti ha potuto Numa fegge la fatto parte! marco ti faccio un esercizio, un esercizio laura balliamo ora il tuec, laura è brava a ballare non so ballare il tuec, amore, no, non so ballare perché sai ballare tutto il tuec no non sai fare il tuec no Vittorio stai facendo il caffè, Vittorio? appena vedevo a ingerire e chiudere, mamma e io e tu no professori stai, ma mi sembra essere un mal tempo allora voglio interrogare la signora marco detta magà e la signora laura detta la divina che di divina non ha proprio niente e voglio interrogare anche la signora Rita De Crescenzo, la signora svergognata dai, dici, dici... dici dici, parla non ammazzate per her dip, ha spettato anche per catturale, ragazzi, io vorrei abbattere Ti dico qualcosa addosso Vittorio Scusi Vittorio Vittorio La mia vita Vittorio 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 Voi che mi stai, no? Margo, no! Ah, bello, sì! Ah, tu come? Grazie amore, ti ringrazio Margo! Ehi! 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 Vistro, ma tu lavori? Sì, lavoro! Che lavoro fai? Che lavoro fai? Ehm... Ho un negozio di telefonini! Dove? Dove? Alla Fragola! Che? Dove? Alla Fragola? Sì, alla Fragola! Che parte? Sì! Che parte? Uno! Good night! O guestkilin! A Sora!